Ci mettiamo alla prova quindi in caso di evacuazione del rischio dei campi fegrei e lo faremo attraverso uno o due giorni che parte da domani dove con una vera e propria tax force di mobilitazione di tutti i servizi comunali, le strutture dedicate alla protezione civile, gli istituti della città di Napoli ma anche il grande apporto degli ordini professionali andremo a simulare per 72 ore il nostro piano di evacuazione. C'è molto interesse in questo tipo di iniziative ed è giusto farla, questa è la prima volta che si fa in scala reale, avremo delle esercitazioni per posti di comando ma anche in scala reale sabato mattina quindi muoveremo circa 1500 ragazzi, abbiamo fatto una formazione presso le scuole perché tra le varie articolazioni della protezione civile il cittadino ha un ruolo fondamentale, l'ultimo decreto quello del 2018 ha stabilito nella resilienza cioè nella possibilità di avvertire la cittadinanza e il cittadino avere dei comportamenti responsabili uno degli elementi fondamentali. L'intenzione e volontà è quella di dare impulso alla pianificazione di protezione civile, testare le pronunciature dei centri operativi, sensibilizzare sia le coscienze La conoscenza vera e propria della protezione civile e nell'ambito del comune. La settimana nazionale della protezione civile termina nei campi flegrei con l'esercitazione che testerà da oggi a domenica la capacità del sistema di protezione civile di evacuare la popolazione in caso di allarme per eruzione del vulcano dei campi flegrei caratterizzato da numerose caldere sottostanti Pozzuoli, Napoli ed altri comuni. Un'esercitazione che nel comune di Napoli interessa oltre 300.000 persone. Sono coinvolti numerosi enti competenti in materia che si occuperanno della campagna di informazione, dell'attività di monitoraggio, dell'attivazione del sistema di protezione civile, della pianificazione dell'ordine pubblico, del settore sanitario e della salvaguardia dei beni culturali e dell'organizzazione dei centri operativi di soccorso, delle aree di attesa e del trasporto assistito con la verifica del piano di allontanamento. Sono stati coinvolti quattro ordini professionali, sono stati coinvolti quattro decenni napoletani con 1.500 ragazzi. 13 servizi del comune di Napoli dovranno dare una risposta per quelli che sono gli obiettivi che ci sono stati fissati. Faremo questa prova grazie alla platea scolastica, abbiamo infatti interessato quattro istituti della nostra città e soprattutto da oggi parte l'invito alla cittadinanza a vivere e seguire questa esercitazione perché la vera protezione civile è proprio l'attività di prevenzione e soprattutto il primo attore della protezione civile è il cittadino.